Conferenza stampa questa mattina per la presentazione del progetto di ampliamento del distretto sanitario quartese. Buone notizie anche per quanto riguarda la costruzione del nuovo distretto sanitario per il quale sembra essere in dirittura d'arrivo l'approvazione finale. Sull'argomento abbiamo ascoltato il primo cittadino, nonché il medico, Sauro Sicone. Dottore Pasquale Bove, subcommissario sanitario dell'Aslo Napoli 2 Nord, Quarto non ha più il suo distretto, sarà un presidio. Che cosa cambia per il cittadino quartese da distretto a presidio? Per il cittadino quartese non cambia assolutamente nulla, in quanto i servizi resi fino ad oggi saranno continuati a essere erogati così come abbiamo fatto fino adesso. Anzi, in intesa con il sindaco, su spinta soprattutto del sindaco, stiamo provvedendo ad ampliare, per mettere più in sicurezza e ampliare anche le prestazioni che vengono rese ai cittadini di quarto. Sindaco, quindi fortunatamente per i cittadini non cambia niente, cambia soltanto la realizzazione del nuovo distretto sanitario, sono anni che se ne parla, forse siamo giunti alla conclusione. Io ho resuscitato un cadavere, perché ormai quando mi sono insediato due anni e mezzo fa in questa amministrazione, di fatto ormai la possibilità di aprire questo South sembrava ormai decaduta. Noi l'abbiamo recuperata questa situazione da un punto di vista urbanistico, stiamo completando tutta la procedura, manca l'ultimo atto, che è il parere del gerio civile, che ci verrà consegnato giovedì. Dopodiché si torna in consiglio comunale, anche con un consiglio comunale straordinario e urgente, si approva e a quel punto bisogna soltanto dire alla ASL inizia, perché quello che dobbiamo fare noi l'abbiamo fatto. I carabinieri della tenenza di quarto l'hanno ribattezzato a operazione Iperfemili. Ieri mattina è finita in manette un'intera famiglia, composta da madre e due figlie, accusate di aver messo a segno un furto all'interno del centro commerciale quarto nuovo di Via Masullo. Una 45enne del Monte di Procida e le due sue figlie di 21 e 29 anni, tutte incensurate, hanno nascosto nelle borse e nelle tasche dei cappotti prodotti per la Cosmesi e capi di abbigliamento, per un valore di circa 750 euro. La madre faceva da palo, mentre le figlie piazzavano i colpi. A notare la scena, però, sono stati alcuni carabinieri in borghese, che al momento opportuno hanno fatto scattare le manette attorno ai polsi delle tre donne, che nelle prossime ore saranno processate per direttissima. Torna il bel tempo e si spera che duri, oltre che per una questione propriamente meteorologica, per il fatto che attendiamo con impazienza l'avviamento dei lavori di rifacimento del manto stradale quartese distrutto da mesi di pioggia. Abbiamo sentito al riguardo l'assessore ai lavori pubblici, Mario Bramante. Assessore, sembra che la primavera finalmente stia arrivando. A quando questa fioritura di cantieri nelle strade di quarto? La fioritura dei cantieri ormai è partita, perché entro fine settimana, massimo inizi della prossima settimana, partirà la ripavimentazione del Corso Italia e finalmente inizieremo anche via Crocillo e parte di via Casalanno. Nella fattispecie, tra giovedì e venerdì, cominceremo a fresare il tappetino del Corso Italia, quindi chiediamo la massima collaborazione a tutti i cittadini e già ci scusiamo per gli inconvenienti che potremmo causare, mentre invece via Crocillo, che è un po' più complicato in quanto dovremmo rifare anche i marciapiedi, stiamo cantierando la strada. Qual è la situazione invece per quanto riguarda le scuole di quarto? Le scuole sono anche partite, quei famosi appalti per la manutenzione delle scuole medie e delle scuole elementari e c'è un'ulteriore buona notizia, come avevamo ricevuto quel finanziamento dell'Inail per la scuola Gobetti, abbiamo ricevuto un ulteriore finanziamento sempre da parte dell'Inail per 243 mila euro per la scuola Mario Napoli. Venerdì sera, grande serata di sport a quarto che dalla palestra della scuola media Carlo Emilio Gadda ha trasmesso in diretta su Rai Sport Plus l'incontro pugilistico valido per i campionati europei tra l'italiano David e l'irlandese Highland. Non è andata benissimo per i colori azzurri, ma il pubblico a bordo ring ha comunque gradito l'evento. Ascoltiamo le parole del pugile azzurro raggiunto nel dopogara. Davide, è un match intenso dall'inizio alla fine, è forse un po' subito troppo la partenza sprint dell'irlandese, poi un lento recupero, ma non è bastato? No, mi ha perso al fegoto subito, mi ha fatto male, però ho stretto i denti, ma non è bastato. La sensazione però era quella che quando i tuoi colpi arrivavano facessero davvero male? Sì, però non è bastato, purtroppo non è bastato. Non è bastato, purtroppo non mi ha fermato perché avevo preso un po' di colpi sotto e stavo troppo preoccupato sotto. Che cosa ti rimproveri? Ma purtroppo niente, ho fatto quello che potevo fare. Anzi, ho stretto i denti, sinceramente, la terza, la seconda ripresa, ho preso un montante al fegoto proprio, volevo lasciar via, cioè volevo proprio abbandonare. Invece ho stretto i denti e poi era preciso, mi ha preso sempre preciso, fino all'ultima ripresa. Poi ormai ci ho fatto l'ossa. Ti preparai per riprendere il titolo, insomma? Sì, il 30 aprile dovrei fare il campionato italiano e poi se mi dà una rivincita perché no. Ecco la quarto del futuro e il titolo è scelto dal sindaco di quarto Saurosecone per l'incontro pubblico organizzato per giovedì 18 marzo alle 17.30 presso l'aula consigliare Peppino Impastato in Piazzale Europa. Nel corso dell'incontro con esperti urbanisti come il professor Pari De Caputi, urbanista di fama internazionale che ha avuto l'incarico dall'amministrazione comunale di quarto di redigere il PUC, il nuovo piano urbanistico comunale che prenderà il posto del vecchio piano regolatore generale. Il sindaco Saurosecone illustrerà nel corso dell'incontro pubblico tutti gli aspetti relativi al nuovo PUC, al piano comunale di attuazione del piano casa regionale, al piano ERS, edilizia residenziale sociale, al piano di abbattimento e ricostruzione del rione 219 di Via dei Gasperi, al piano di insediamento produttivo. Ritengo che tutto ciò rappresenti tante importanti opportunità, dice il sindaco Saurosecone, per ridisegnare in maniera armonica il territorio di quarto, ma anche per consentire ai cittadini di costruirsi una casa, senza tralasciare poi la possibilità concreta di realizzare infrastrutture per i servizi ed il tempo libero e per rilanciare l'economia quartese. Speriamo davvero che tutti questi progetti possano andare a buon fine. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale, vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento alla prossima volta. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS